Grazie 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 Ti adoro Mi sei simpatico Un applauso Buoni cari Grazie 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 Ecco se siete tutti clandestini toglietevi dalle palle e andate da un'altra parte Se siete tutti clandestini andate da un'altra parte Suivindarietà ai lavoratori dell'Anesi E non si può parlare di lavoro A difendere il lavoro in provincia di Imperia Perché la Ricuria e l'Inperia si meritano di lavorare Non di colpare solo di migrazione con il destino E quindi noi ci siamo Nonostante qualcuno anche dei gol così importanti che ha bisogno di uova per difendere le sue idee, che ha bisogno dell'attenenza per difendere le sue idee di ente mette a idee, che non mai inizia a fare, in luglio libera, in luglio libera, nel 31 maggio mandiamo a casa certe persone e il 31 maggio mandiamo a casa certe persone e un abbraccio a chi ci ospita e la stragrande maggioranza di persone civili, di lavoratori e di lavoratrici che vivono in feria e non mi invitano di essere accomunati a certa gente, andate a protestare fuori dalle banche, andate a protestare fuori dalle banche e ci passate una volta domenica davanti a un bar, se voi ci siete noi ci siamo con l'impegno di fare tutto quello che possiamo per tutelare i cento posti di lavoro dell'Anesi che dovrebbe coinvolgere tutti, una battaglia che dovrebbe coinvolgere tutti, non solo poche persone. Grazie, viva l'Anesi, viva l'Anesi, viva il Consiglio dei Consistatori c'è gente che ha già lottato per noi, crediamo quindi queste persone di rispettare il nostro lavoro. Salvini oggi è venuto per terrorare la nostra causa come voi lo avete fatto in passato, cercate per piacere di dare lo spazio che merita ai lavoratori del nostro posto di lavoro. Grazie.